E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo secondo video di oggi Oggi andremo a finire la mappa che abbiamo iniziato ieri, quindi ieri che era domenica Che ancora non so bene come, come, che titolo mettere, però va bene, lasciamo stare Detto questo, invito come sempre a lasciare un pollice in su, cerchiamo di superare i 2000 e tanti like Per questo, questa seconda parte di questa mappa Iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti e ti andiamo alla campanella perciò tutte le mie notifiche Detto questo possiamo iniziare subito Ok ragazzi, eccoci qua Sto registrando la seconda parte qualche ora dopo la prima parte Così mi porto quantomeno avanti un pochettino nei video E abbiamo fatto il livello 1, il livello 2, adesso dobbiamo fare il livello 3 che è il livello dello schifo Oh no E dai, iniziamo Ok, allora È il livello marino, quindi naturalmente c'è di mezzo l'acqua Dobbiamo andare lì E va bene, dobbiamo fare praticamente del parkour con l'acqua Ok, sembra ragazzi relativamente semplice Palloso, ma semplice Questo salto lo vedo più difficile Ah, ok, ok, bene, bene, bene Vai adesso in diagonale E Vai Uh, bene Perfetto, bravissimi Ok, perché vedo tipo con Oddio Raga abbiamo speed 40.000 Zio Non mi puoi sconfiggermi con speed E invece sì No Raga, voglio provare a fare la prima botta È difficilissimo Allora, dobbiamo cercare di trovare Dovremmo farcela così, raga Scherzavo? È troppo difficile Got to go fast Niente Got to go fast Oddio, ce l'ho quasi Proviamo a farlo poco alla volta, quindi Così? No, dai Ce l'ho quasi Dovremo premere subito shift, mi sa No Ok, raga Non so neanche io come mi sono fermato qui Ah, ah, non posso cadere adesso Bene Ora Eh È molto difficile, so, raga No Cosa ho fatto? Come ho fatto? No, raga Non possiamo sbagliare adesso Oh Ce l'abbiamo fatta Piano Ok Oh, perfetto No È perché cacchio Il parkour Ma perché? Si chiamano puzzle map Perché mi ci butto Entro il parkour A quest'ora Se volevo il parkour Mi scaricavo Una parkour map Vabbè Ah, vero Non c'abbiamo più la speed ora Giusto Ok No Ma non è che c'è qualche modo Per citarsela Sta cosa, vero? No Il parkour devo farlo per forza Il credito della mappa Non è contento se io non mi faccio il parkour Io cambio Ma C'è What? Gli posso rompere la mappa Ah, pensavo che era un modo per glitchare la mappa Invece no Ci sono rimasto malissimo, raga Ecco Tutti voi che fate queste mappe Siete crudeli Siete crudeli Mi ero pure ripromesso Ripromesso Che se beccavo un'altra custom map Con il parkour Non l'avrei Mai Fatta Perché mappa vuoi che ti devo rompere Come l'altra mappa fatta la settimana scorsa Non vuoi che ti rompi Giusto? Quindi fammi fare come si deve Questo Sacro santo Parkour Ci sarà un modo per glitchare questa cosa Di qua Che devo fare? Ma prima ce l'ho pure riuscita Non so neanche come ce l'ho fatto Non lo so neanche io Ok Va bene Ce l'avevo fatta Che Toh Beccati sti cosi Vai Sì ciao Perfetto Ma come cacchio Devo arrivare tipo la Mi sa Devo fare il giro Tac Tac Che poi lo metto pure Che faccio schifo al parkour Non dico che è difficile Che io sono bravo O altro No io lo dico Io sono una schiappa nel parkour Per questo non lo voglio fare Perché non sono bravo Cioè per me la mappa Può anche finire qui Veramente No Ok Porca Sono 15 minuti Che sono su questo livello Basta Prince senpai Ok Oh mio dio Senti fermo Ora di qua Ora da qui Andiamo qui Da qui a qui Ok Adesso da qua Andiamo qua sotto Ok Ragazzi Che cosa sei tu una tarta Ah Oh Oddio Grazie 3 su 4 Finalmente Devo fare Allora c'è Dell'acqua Una crafting table Ok Che devo fare C'è qualcosa Forse Uh Aspettate C'è qualcosa Forse sotto Forse mi devo un attimo buttare C'è una chest là Ok Perfetto Perfetto Quindi la chest è qui Yeah Una spugna Oh eccola Trovata Trovata Scendiamo sotto Cosa c'è Un bottone Ne hai mai noto Un ender pearl Ok Forse devo buttare qua Oh si E dai Ma perché sono così sfigato oggi Dei figli di mouse Ah eccolo Vabbè dai adesso è semplice Scusa Scusa Ma io non la posso citare in questo modo Bitch please Così E vai così E dai Ok Oddio Dovevo fare tutti No vabbè Dai iniziamo Questo qui è semplice Ma lento come non so che cosa Raga Vai No Allora non ci possiamo arrivare No raga Ho sbagliato strada Mi sa No Devo fare quella Quindi da qui C'è questa qui ragazzi Vedete È molto semplice Come come cosa Pallosa Ma semplice Semplice E hopla Fatto 3 su 6 Dai è così Qua sotto cosa c'è Un bottone No 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 Vabbè dai Si può fare Si può fare questo qui raga Dai E Penso sia forse Il livello più semplice Vabbè L'ho detto Guarda L'ho detto No vabbè Ce la facciamo Ci sarà un Forse Oddio Oh Ho trovato come cittarlo Correndo Correndo Vai così Oh Livello 3 Completato Vai così raga Madonna Ora tocca Al livello dell'inferno Dov'è Quello col ghast Va bene Già so che sarà pieno di parkour Guarda Perché l'inferno Sarà sicuramente pieno di parkour Eccola 4 su 1 Dove ci troviamo Già mi dobbiamo To get a litro Dove andare lì Ok dai Sono relativamente semplice Ah ma non è finito No Ma chi me lo fa fare sta cosa Ti spegni Ok Vai così Dai stiamo andando Abbastanza Beh Sì Devo fare da lì A lì A lì A lì A lì Sì E la la Vabbè Eh non ci siamo arrivati Dobbiamo fare un misa Di corsa In modo che abbiamo anche lo sprint Opla Perfetto Ok questi qui Dobbiamo farlo velocemente Eh che cacchio La cosa bella Che forse non sapete È che questa mappa La sto giocando In modalità facile Perché sarebbe anche Una modalità difficile Dove ogni volta Che moriamo Tipo moriamo Allo stage 5 Del nether Non è che iniziamo Dallo stage 5 No Andiamo iniziando Dallo stage 1 Cioè È impossibile fare La versione difficile Di questa mappa Raga Cioè Già quella La versione facile È difficile Che ci sono stage così Immaginatevi Quella difficile Porca pupazza Ma adesso Non ci arrivo più Là con l'elitra Guarda Dobbiamo andare subito avanti Mi viene verso l'alto E ce la facciamo Perfore Spenniti ora Non è che qui c'è qualche trucchetto Così Forza Dobbiamo andare adesso qua No Dobbiamo andare lì Ci siamo quasi raga È la fine là Ce la possiamo fare No Per favore Merda del futuro Mentre monterei il video Mettimi una canzoncina Di sottofondo triste Grazie Perfetto Ciao isoletta Cioè Veramente Sto preferendo tantissimo La versione Quella Del mare Non lo so Il mio personaggio È un'altra Infiammabile Raga Non lo so Non si spegne più È pure la testa in giù Ora Ti vuoi spegnere? Ah zio Spegniti Non cadere adesso Grazie Quattro di No Di nuovo con la velocità Vabbè ma Si può cittare così Dovresti andare nel punto più alto Eh Ok Non si può più cittare Questo è cattivissimo Sì Troppo cattivo Oddio No Ce l'ho riuscito Perché ho stato la seconda volta Mannaggia me La tecnica è saltare sempre Non è vero Non è assolutamente vero Oddio No Ce l'ho quasi Ce l'ho quasi Secondo me il segreto È trovare la giusta traiettoria Appunto Vedete Più o meno ce la facciamo così Fermo No raga No No ma Stai scherzando Tu sei pazzo Ma mi sa che è pure l'ultimo livello Questo raga Non ne vedo altri Ma tu sei fuori di testa Tu sei fuori di testa Non si può fare un livello così Non si può fare Cioè Questi vedi sono i credi della mappa Allora Che livello facciamo? Beh Un livello parkour Sì però È troppo semplice Eh beh Ci aggiungiamo alla velocità 1000 Dai Che sarà mai Sarà semplice comunque Beh sì 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 Puttina No probabilmente ragazzi Questo qui sarà l'ultimo livello Per questo è così Della serie Se sei arrivato fino a questo punto Tranquilla la mappa Non la finisci più Ma noi Se anche la fine Questo qui ragazzi Non lo so Non ci arrenderemo mai Non è che c'è qualche bottone Fermi Che noi subito Siamo fiondati Ecco Sapevo Non mi salta In quel punto C'ero quasi Cioè Voglio vedere se c'è qualcun altro Che vuole fare questa mappa Veramente Cioè voglio vederlo proprio A questo Nooo Mi sa che della resta Della prossima settimana Ritorneranno le bedwars E non più le custom map Mi sa che è meglio trovare I hacker sui pretzel Che su Che 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 parkour qua Ora veramente Cos'è più odioso Il parkour o i hacker Non lo so Perché Sui pixel Ma al che vada Cambi lobby Via Qua no Deve farlo per forza Wikio Come superare Un parkour Della minchia Che poi in tutti gli altri I miei video Io sono molto tranquillo Sciallo Cioè Ho avuto fan Che mi hanno detto Ma tu sei Uno dei pochi Che è tranquillo nei video Gli altri gridano farle Non vedete questo video Non lo vedete Esce la parte peggiore di me Esce l'emeral di 4 anni fa Che in un video Che ormai non esiste più Ha rotto la tastiera I tasti volavano In quel video Riproviamo a farlo di nuovo Piano piano Passo per passo Come avevamo iniziato Così La velocità È Meno Veloce rispetto Al livello Dell'acqua Quindi è più Gestibile Più o meno Fermati Fermati Ok Non mi salta Perché non mi salta Che problemi hai a saltare Dove mettere la macro Per saltare Che è sicuro Che becchi il tasto Non lo so Non lo so Qua ci vorrebbe Adesso la Transizione Alla Spongebob Che ho scritto 2000 anni dopo 2000 anni dopo Oddio No 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 Ma io mi chiedo I creatori della mappa La provano Prima di pubblicarla Dicono È fattibile C'è l'un per cento Di possibilità Di riuscirci Non lo so Non dico che ho L'essere semplice Ma comunque ho Un piccolo Aiutino No Niente Quindi questa parte Bisogna farlo Tuttavia no piano No raga No 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 Ci ho messo 15 minuti Ad essere qui Ora muoio Perché non vedo Dove devo andare lì Porca No raga Si è rotto il mouse Non mi cambia più visuale Vabbè Ci No raga Non clicca più il tasto destro Raga basta È andato il mouse Raga il mio mouse Prema il tasto destro All'infinito adesso Questa mappa Mi ha fatto rompere il mouse Alp Raga Niente Il mio personaggino Te ne Te ne è venuto sempre il mouse Ora Il tasto destro Va bene così Manca l'ultimo salto Non ci credo Cioè ho fatto ragazzi Per altri 30 minuti Questa parte Col Col tasto destro premuto Va bene Ok No raga Non posso premerlo No No Non mi va più il mouse Non posso finire la mappa Io mi ammazzo Cioè devo fare Ecco Ah Non lo so ragazzi Mi sa che Abbiamo finito la mappa Va bene così Ho rotto il mouse Basta Io direi che questo Video può anche Finire qui Quindi ragazzi Questo video di questa Cazzo mappa Finisce qui Sperandissimo Mi sia piaciuto Io spero invece soltanto Di aggiustare il mio mouse In caso mi farò sapere Poi qua sotto nei commenti Se l'avrò aggiustato Detto questo Mi invito come se Nascendo un pollicione in su Un commento qua sotto Ricorda di passare in descrizione Perché io sono i link Dei miei social Come Instagram e Telegram Per condizioni di me su entrambi Se non vi siete iscritti al canale Vi invito ad iscrivervi Volendo per iscrivervi al canale Basta cliccare il canale Che sta cuocendo lo schermo E se ce l'avete fatto Pliccare la sinistra Adesso vi do un altro mio video Raga Spero ancora di aggiustare il mio mouse E vi saluto Ciao a tutti E mo come la sta Con la registrazione Senza il tasto destro